Ridotti drasticamente i contributi alle scuole, Mobilio Vetusto è pericoloso a denunciare le difficoltà che le scuole della città stanno vivendo il direttore amministrativo dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto Sergio Averna, che ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Giovanni Ruvola, all'assessore Ilaria Insisa, al presidente del Consiglio Comunale Leila Montagnino, ai presidenti della Quarta e Quinta Commissione Consiliare, rispettivamente Angelo Scalì e Francesco Dolce, oltre ai capigruppo consigliari e al dirigente Ramo, per conoscere immediatamente il budget effettivo per l'anno 2017 dentro il 30 novembre, la previsione per il 2018. Come è successo lo scorso anno, le somme per il 2016 sono state versate e comunicate nel 2017, quindi l'anno finanziario completato con le spese fatte, e hanno fatto un taglio del 50%. Ci arriva la settimana scorsa da parte della regione la comunicazione che per il 2017 ci tagliano anche loro il 50% dei fondi, quindi noi in questo momento ci ritroviamo con una spesa fissa di 11 mila euro e un introito di 7 mila euro, quindi già con 4 mila euro fuori budget, quindi non abbiamo, tra le altre cose, non abbiamo disponibilità né economica né possiamo chiedere alle genitori. Considerate che le nostre scuole sono scuole del centro storico, scuole in cui non è possibile non solo chiedere soldi, ma neanche il materiale, quindi quotidianamente il personale, le associazioni si tassano per comprare il materiale ai ragazzini, dai libri ai quaderni, agli zaini, per cui ormai è diventata una situazione insostenibile. Il fatto di aver fatto la lettera all'amministrazione ha un senso, perché l'amministrazione locale, che ha tagliato il 50% dei fondi per quanto riguarda il funzionamento, il 70% per quanto riguarda le attrezzature, il 100% per quanto riguarda il POF e per le attrezzature tipo i banchi da 10-15 anni non ne abbiamo più, fa comprendere che la situazione è grave, loro possono col bilancio di previsione prevedere queste somme. Tra le altre cose, proprio per capire il senso di come pensano che le cose vengano fatte, l'area della scuola è stata aggregata all'area dei servizi sociali. Allora, se è un servizio sociale, se è un servizio di aiuto alla popolazione, vanno rimbinguati i fondi. E come ho scritto nella lettera, i soldi delle economie della defrazione scolastica, che vengono utilizzati per altri progetti, potrebbero tranquillamente essere utilizzati per rimbinguare questo 50%, e ancora ne rimarrebbero i fondi. Quindi questo appello, che è molto corale, ma che tocca tutte le scuole, non solo di Caltanissetta, ma dell'intera Sicilia, perché il problema noi ce l'abbiamo in Sicilia, perché il funzionamento in Italia funziona con lo Stato, in Sicilia funziona con la regione.